Ciao ragazzi, in questo Video Team Radio le considerazioni finali nel giro post-race di Carlos Sainz, che secondo il suo parere corre una gara, diciamo così, non proprio esemplare. Il buon Carlos prova a fare quello che può per guadagnare qualche posizione, anche se ultimamente il suo team sbaglia troppo spesso il cambio gomme. Infatti anche in questo GP degli Stati Uniti, al momento del pit, la squadra di Maranello fa perdere secondi preziosi allo spagnolo, che non li permettono di superare Daniel Ricciardo. 3-7, buone combattie, hai provato il tuo best, benissimo. Che c***o race. Carlos, è stata una gara dura, ma tu hai guidato in modo perfetto, bravissimo, sei stato veramente bravo. Ho provato tutto, ma niente. E non c'è il fatto, non. Ciao. Grazie a tutti.